Musica Primo anno scolastico e primo successo al saggio di fine anno per gli studenti del liceo musicale Galileo Galilei di Piedimonte Matese che si è svolto nell'auditorium dell'istituto che presto sarà rimesso a nuovo e rospitare la musica a 360 gradi. L'evento si è svolto davanti a numerosi studenti, genitori e varie autorità intervenute. Il progetto per le attività musicali continua sulle ali dell'entusiasmo dopo un primo anno con le normali difficoltà da parte di tutti gli addetti ma anche di grandi soddisfazioni. Un finanziamento di 150.000 euro già pronto per dare il via ai lavori dell'auditorium e l'acquisto di strumenti musicali per il prossimo anno fra le molte aspettative degli studenti, della dirigente scolastica De Girolamo e ovviamente dei docenti. Allora professoressa, un primo anno sicuramente con qualche difficoltà, poi adesso ci risulta che siano già arrivati i fonti quindi il prossimo anno sarà sicuramente migliore del primo. Sì, in realtà abbiamo partecipato alla candidatura per ricevere i fondi strutturali europei per la realizzazione proprio di un nuovo liceo musicale per un laboratorio che abbiamo chiamato simbolicamente a scuola con Euterpe. E proprio è questo l'invito che vogliamo fare ai nostri alunni, essere in un liceo, frequentarlo con l'animo di sentirsi musicisti e chi più di Euterpe poteva ispirarli. E quindi ovviamente grazie alla nostra candidatura che è stata approvata ed è stata già autorizzata, il dirigente scolastico, la professoressa Bernarda Di Girolamo, di cui io mi pregio di essere collaboratrice, sta avviando tutte le procedure per realizzare quello che sarà poi per noi un pregio, inaugurare, spero il più presto possibile, una grande realizzazione di un auditorium che potrà ospitare sia manifestazioni interne che anche accogliere ospiti esterni che prevede un delicato intervento di insonorizzazione, non vedremo più tende ma vedremo finalmente porte e poi riusciremo a dotare i nostri nuovi musicisti di una larga dote di strumenti musicali grazie all'Europa e grazie al lavoro e grazie alla tenacia del nostro dirigente che ci invita sempre a partecipare e siamo stati premiati con una somma di ben 150.000 euro che cercheremo di spendere al meglio per poter assicurare il futuro di musicisti ai nostri allunni. Allora il primo anno quindi ovviamente dato che l'inizio di questo indirizzo ci sono state molte difficoltà perché già non avevamo l'attrezzatura per esempio quindi ci dovevamo portare tutto da casa io per esempio viaggio da casa a scuola a piedi con il basso e la viola addosso più lo zaino. Allora professore proviamo a fare un bilancio di questo primo anno del liceo musicale qui anche a Piedimonte lei mi diceva prima che ce ne sono sei o sette in tutta la provincia. Sì sono sette licei musicali in provincia di Caserta noi siamo l'ultimo nato, l'ultimo arrivato è il neo musicale di Piedimonte Maserese qui al Galileo Galilei e siamo veramente contentissimi di questo andamento scolastico che sta per terminare oggi con il saggio finale dei ragazzi che si sono impegnati tantissimo. Quanti ne sono? Abbiamo una classe quest'anno molto numerosa di 22 allunni e anche per l'anno prossimo già si prevede una bella prima classe perché logicamente questa prima andrà in seconda a formare la seconda classe e arriveranno le nuove leve, le nuove forze che ci daranno ancora più l'infa per l'orchestra e per tutte quante le performance future. Non sono tardati ad arrivare anche gli auguri di buon lavoro della preside De Girolamo alla fine del primo anno di questo affascinante percorso. Sì, questa sera i nostri studenti per la prima volta si esibiscono e dobbiamo tenere presente che sono allievi della classe prima dell'indirizzo musicale. È una serata importante, è il loro primo incontro con il pubblico, il loro primo concerto. Io voglio augurare tanto in bocca al lupo ai ragazzi ma soprattutto voglio ringraziare i docenti per la magia, oserei dire, per la magia che hanno operato trasformando questi ragazzi in veri concertisti. E anzi voglio approfittare che la serata di oggi, per dire che la serata di oggi e quella di domani, sono due serate importanti per la nostra scuola. Sono due serate importanti perché andiamo a condividere con i genitori, con il territorio, con tutti, con gli stakeholder del territorio, andiamo a condividere le tantissime attività che il nostro liceo quest'anno ha portato avanti. Andremo a presentare i tantissimi premi vinti dai ragazzi ma in modo particolare le tante attività svolte dagli allievi nel corso dell'attività di alternanza scuola-lavoro. Dall'auditorium del liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori di Piedimonte Matese è tutto,